E' andata in archivio la quarta edizione della manifestazione tra Vasce e Vichi a Castellabate. Possiamo fare un bilancio della manifestazione che ha lietato il Natale qui a Castellabate? Sì, direi che quest'anno è andata benissimo, più di quello che ci aspettavamo. E' sempre un crescendo per noi dell'associazione, dato che comunque è un grande lavoro ciò che noi facciamo. E quindi ci meraviglia sempre di più vedere tutta questa gente che comunque è molto entusiasta ed è contenta di vedere questa parte scoperta di Castellabate che noi cerchiamo di evidenziarla più di tutti dato che comunque ci sono dei belli scorci e un bel panorama da poter guardare. I risultati fortunatamente si vedono ed è quello che ci spinge sempre a migliorare di più. Il comune di Castellabate perché ricordiamo che gran parte dei locali, nonché i giardini, sono di proprietà comunale. Quindi loro ci mettono a disposizione questi scorci e questi spazi che rendono il nostro evento sempre a livello che ad oggi fortunatamente è alto. Ringraziamo poi ovviamente tutti quelli che partecipano alla preparazione e alla realizzazione di questo evento. Ovviamente l'appuntamento è per l'anno prossimo, sempre qui a Castellabate. Sì, appuntamento per l'anno prossimo, date ancora da stabilire, ma anticipiamo che grossomodo saranno sempre quelle di quest'anno. Vi aspettiamo sempre numerosi e un buon anno a tutti e grazie per la partecipazione. Grazie. 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 Grazie.